Allora non hai capito? Io voglio parlare con... Io so calmissimo, io so sempre calmissimo. Io devo parlare con il responsabile ufficio... Non mi armetta la musichetta che? Allora, tu ti devo parlare al responsabile ufficio verbale che l'anno scorso mi sono arrivato in sacco di multe dalla ZT e li vado a consegnare i regali. Alla notte mi arrivo nelle multe. Hai capito? Allora che? Va via dai sciacolocchi. Che? Un'altra multa è arrivata. Ah, scordami, se quest'anno non aprite i barchi su Aspoleto, io quando è vero vedo il fuoco. A voi tutto comune. Buon Natale. Ciao tanto adesso. Porca sta mignota. Oh! Ciao bambini. Quante letterine avete mandato quest'anno? Eh? Tre quintali me ne ha portato il bustino. Eh? Qualcuno anche dei vigili una parata... Eh, comunque bene. Bravi. Prossimo anno se mandate l'email evitiamo di sdiragli tutto un bosco amazzonico per fare la carta. Comunque, chiedetemi anche l'amore e la pace nel mondo che costa poco se trasporta bene. No, no. I Pokémon che costano... Sparagniamo un tantino, no? Paesi amore. Torni a超are gli onwards. Allora,NER begitu con noi e noi. È Bub... Sverei 5 minuti.